Ciao ragazzi e bentornati nella sezione cocktail di My Personal Trainer TV. Sono Federico, your personal barman. Oggi prepareremo un cocktail di gran classe, conosciutissimo in tutto il mondo. Il gin tonica. Per preparare il gin tonica occorrono Ghiaccio a cubetti Un'oncia e mezza di gin E a colmare tonica. Colmiamo il nostro bicchiere con del ghiaccio. Ora verseremo un'oncia e mezza di gin Quindi un Rumble 6 Rumble 2, 3, 4, 5, 6 Andremo a colmare con dell'acqua tonica Misceliamo il tutto con il bar a spuma Per circa 5-6 secondi Guarniamo con una fetta di limone Due cannucce E il nostro gin tonic è pronto! Cocktail di origine inglese, il gin tonic, è buono in qualsissimo momento della giornata E come sempre Miscelato e degustato Grazie per la visione!